Sfida tra squadre affamate di punti, quella tra Alba Adriatica e San Salvo. San Salvo alla seconda di Sgherri deve far risultato per muovere la sua ultima posizione classifica. L'Alba ancora a caccia del primo successo tra le mura amiche. La casa si sblocca subito al quinto schema da calcio d'angolo battuto da Veccia che va a cercare a centro area di rigore. Gibbs, un bomber acquisito ormai dopo il gol di domenica scorsa al terzo centro stagionale. Alba in vantaggio, San Salvo prova a rendersi pericoloso, un'azione concitata, la palla finisce sui piedi di Bertani ma libera la difesa rosso-verde. Poi Demal, quattordicesimo, a insidiare i guantoni di Spinelli che è molto attento. La gara ha il suo momento chiave al minuto 21 quando Miani sfrutta un'indecisione grave della difesa bianca-azzurra. E tutto solo serve indisturbato Di Sante che firma il raddoppio. A questo punto l'Alba gioca sul velluto, va vicina più volte alla terza rete. In questa occasione da calcio d'angolo ancora Miani a insidiare Cialdini che si rifugia in angolo. In San Salvo prova qualche ripartenza, il solito Dema sempre ben contrastato dai difensori rosso-verdi. E di Sante sul finire di tempo, avvicinissimo alla sua doppietta personale. Primo tempo in cascina per gli uomini di De Eugenio. Altro spirito quello dei ragazzi di Sgherri nella ripresa. Subito Dema chiama in causa Spinelli che si rifugia in calcio d'angolo. Poi proteste dei Chietini per questo presunto fallo di mani in aria. Il direttore di gara lascia proseguire sul capovolgimento di fronte. 3-0 al Badriatica, solito la discesa sulla destra di Calvarese. Bomber Miani realizza con un perentorio stacco aereo. Va in gol per l'Albadriatica al diciottesimo anche il difensore Mattia Fabrizi e sono quattro. San Salvo prova a salvare la faccia con il gol della bandiera. Protesta ancora per un contatto in area di rigore. L'arbitro anche in questa occasione lascia proseguire Miani al ventinovesimo. È altruista, mette al centro una palla, poi raccolta da Florimbi che spara alto. La partita in pratica si chiude qui. C'è solo il tempo di segnalare che la dirigenza del San Salvo effettuerà ricorso perché il direttore di gara, inizio gara, non ha fatto scendere in campo francioso per problemi burocratici. A sabato ho subito una piccola lesione all'adduttore che quindi prolungherà questo mio rientro per un'altra decina di giorni. Per quanto riguarda la partita di oggi sono stati bravissimi i compagni, hanno fatto una prestazione impeccabile, ci voleva. Finalmente è arrivata questa prima vittoria a Casalinga che è di buon auspicio. Le sconfitte hanno tutte una stessa matrice, commentare la partita di oggi resta molto difficile perché dopo dieci minuti già era 2-0 e quindi per una squadra già in difficoltà come la mia essere già sotto dopo dieci minuti è subentrata ancora di più la paura. Abbiamo cercato in quel momento di fare qualcosa di diverso, non ci è riuscito e nello secondo tempo siamo rimasti ancora negli spogliatoi e abbiamo preso altri due gol. È un momento molto negativo, mi auguro che la squadra sappia reagire nella maniera giusta. Domenica incontriamo la prima della classe.